Ciao a tutti, ho letto sul gruppo della Roma che Spalletti ha mandato via Totti da Trigoria e ci sono rimaste molto male perché il capitano non si meritava quello che ha fatto Spalletti di metterli in panchina io penso che abbia sbagliato Spalletti di mettere Totti in panchina, però non è appunto il mio pensiero pensionare Totti, quello che ha detto Totti io lo condivido perché penso che un campione come lui è il capitano della Roma perché lui nonostante tutto è il capitano della Roma, non si meritava quello che Spalletti ha fatto però ognuno è responsabile delle scelte che fa in campo sportivo io ho detto Totti forza Roma e tu nonostante tutto tu sei il capitano della Roma Ciao